Il prospetto è un futuro molto positivo per tradate e migliorativo rispetto all'attuale. Prendo come spunto lo studio che è stato recentemente realizzato da Confartigianato e la prospettiva che noi vorremmo attuare è quella di migliorare il parametro finanziario per far sì che le imprese siano potenzialmente invogliate a venire a tradate.